Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City in apertura, la cronaca scoperta un'associazione dedita al riciclaggio e al traffico internazionale di droga con un'operazione della Guardia di Finanza, ancora cronaca, alto impatto, attori annunziate a Bosco tre case in azione polizia e guardia di finanza nei rioni ad alta densità criminale, giorni da incubo per i pendolari della circunvesuviana fra ritardi e soppressioni improvvise, in chiusura siamo a Torre del Greco, lunedì riapre la biblioteca comunale Enzo Aprea, l'assessore Pensati, un faro di cultura in cantiere, molte altre iniziative in tal senso, questo ed altro, guardiamo i servizi. Le direzioni distrettuali antimafia di Napoli e Palermo in data odierna hanno eseguito due provvedimenti cautelari rispettivamente un decreto di fermo e un'ordinanza di custodia cautelare inerenti a importanti traffici illeciti internazionali. In particolare la Procura di Palermo, diretta dal dottor Francesco Lovoi, ha dato esecuzione all'ordinanza del GIP che ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi in operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio internazionale e di fraudulento trasferimento di valori, aventi ad oggetto ingenti somme di denaro riconducibili al patrimonio dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, formatasi negli anni 70 con il Cd, Sacco di Palermo e il traffico internazionale di stupefacenti conosciuto come Pizza Connection ed altre si è proceduto al sequestro penale della somma di circa 20 milioni di euro depositata in Albania, nonché al sequestro di prevenzione per circa 30 milioni di euro in esecuzione di decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del locale tribunale, recuperando i beni sottratti all'esecuzione del decreto di confisca emesso nei confronti del noto imprenditore palermitano Francesco Zummo. La Procura di Napoli, diretta dal dottor Giovanni Melillo, ha proceduto in relazione ad un'associazione criminosa dedita al riciclaggio dal traffico internazionale di incentissimi quantitativi di stupefacenti. Le indagini avviate all'indomani del sequestro eseguito nel giugno del 2020 nel porto di Salerno di oltre 17 tonnellate di stupefacenti hanno condotto all'individuazione di una sofisticata associazione criminosa con base in Albania, Italia e Svizzera, finalizzata all'importazione di grandi quantitativi di cocaina e hashish dal Sud America e dal Nord Africa e al riciclaggio dei relativi enormi profitti. Le indagini della DDA di Napoli si sono giovate della preziosa collaborazione del Ministero Pubblico, della Confederazione Svizzera e della Polizia Giudiziaria Federale di Lugano. Contestualmente anche la Procura Speciale contro la Corruzione e la Criminalità Organizzata di Tirana ha proceduto all'arresto di cittadini albanesi che hanno consentito il riciclaggio di 20 milioni di euro riconducibili a Cosa Nostra, sequestrata dalla Procura della Repubblica di Palermo. La complessiva attività investigativa si è caratterizzata per la stretta cooperazione e il costante coordinamento investigativo in alto tra le procure della Repubblica di Palermo e di Napoli, ciò che ha reso ancora più proficua la cooperazione internazionale delle competenti autorità di Albani e Svizzera, così consentendo la minuziosa ricostruzione di plurimi e gravi fatti illeciti connessi tra loro, oggettivamente e o soggettivamente, e la sinergica conduzione delle operazioni in Italia e all'estero. Servizio straordinario di controllo del territorio nel rione Piano Napoli a Bosco Trecase e nei rioni Provolera e Peniniello a Torre Annunziata. In azione ieri gli agenti del commissariato di Torre Annunziata e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza. Nel corso dell'attività sono state identificate 79 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, controllati 45 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate tre violazioni del codice della strada. I poliziotti hanno sanzionato una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale in quanto trovata in possesso di circa 6 grammi di marijuana. Inoltre i finanzieri hanno controllato un uomo a bordo di un motoveicolo rivenendo nel vano sottosella sette stecche di sigarette, prive del marchio del monopolio di Stato, per un peso di 1,5 kg, e lo hanno denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, mentre lo scooter è stato sequestrato. Ritardi e soppressioni improvvise, poche corse ed indicazioni, spesso non troppo puntuali, ai megafoni e sui tabelloni, senza contare la tratta Napoli-Torre Annunziata-Poggio Marino di recente soppressa. Sono giorni da incubo per gli utenti della circonvesuviana, studenti, lavoratori, famiglie, pendolari, che abitualmente utilizzano il servizio per recarsi al lavoro o all'università. Non mancano le lamentele e i malumori. Disaggi anche quando piove, si apprende dalle numerose segnalazioni giunte alla redazione di TV City, anche all'interno dei convogli. E non tutte le porte dei treni si aprono, i disservizi sono innumerevoli. Tra gli altri va evidenziato anche il fatto che i tornelli nelle stazioni non scannerizzano gli abbonamenti annuali di unico campagna. Un lungo elenco di problematica a cui va ad aggiungersi la mancanza di controlli sia per i biglietti che per l'obbligo di mascherine, a fronte di assembramenti non più tollerabili. Panico e caos nella giornata di mercoledì, quando un treno della circonvesuviana è rimasto bloccato per 45 minuti sotto la galleria tra le stazioni di Seiano e Meta. Secondo i pendolari sul convoglio, rimasto senza illuminazione e senza che fosse fornito ai viaggiatori alcun tipo di informazione, si sarebbero verificati momenti di forte tensione. Dalle testimonianze, molti viaggiatori sono andati totalmente nel panico, c'è chi è svenuto e chi è crollato in un pianto a dirotto. Qualcuno ha provato a contattare i numeri di emergenza ma i tentativi sono stati vani. L'ennesimo pomeriggio da incubo per i pendolari in attesa in tempi brevi di risposte chiare e soluzioni immediate. Assessore Enrico Pensati, l'avevamo annunciato in una precedente intervista in questi studi, da lunedì 15 novembre riapre la biblioteca Enzo Aprea. Sì, lunedì con orari dalle 9 alle 14 è stato uno sforzo importante che insieme al sindaco Giovanni Palomba abbiamo messo in campo. La riapertura della biblioteca ha un valore anche simbolico, è un faro di cultura e non potevamo consentire che la stessa rimanesse oltremodo chiusa. Quindi siamo davvero soddisfatti per il lavoro fatto e quindi siamo contenti di poter riaccogliere gli studenti nella nostra biblioteca comunale. Sarà aperta tutti i giorni? Sarà aperta dal lunedì al venerdì. Chiaramente come abbiamo già detto la biblioteca deve diventare un punto centrale per il rilancio e per lo sviluppo delle attività culturali nella nostra città. Quindi è un primo impegno che abbiamo mantenuto e siamo contenti di dirlo soprattutto ai ragazzi che quotidianamente, ripeto, ho ricevuto a Palazzo La Salle con i quali interloquisco quotidianamente. Quindi è davvero una soddisfazione e il merito è soprattutto loro. A tal proposito avete già in mente di organizzare iniziative culturali? Sì, stiamo lavorando. Abbiamo aderito a due bandi che sono usciti relativamente al potenziamento della biblioteca, inerenti sia alla digitalizzazione e sia allo sviluppo delle attività liberali. Stiamo valutando alcune proposte che ci sono arrivate per accogliere gratuitamente dei libri e quindi per rendere più cospicua la fornitura di libri nella nostra biblioteca. Abbiamo, ma questa non è una novità, purtroppo un'annosa carenza legata al personale. Quindi inevitabilmente dobbiamo cercare da questo punto di vista di trovare delle soluzioni che ci consentano di tenere comunque la biblioteca aperta anche nell'orario pomeridiano. A proposito di cultura tra i progetti in cantiere dell'amministrazione comunale, c'era anche quello di creare un centro polivalente nei locali dell'ex pretura. A che punto siamo? Questa è un'altra bella notizia perché so che il dirigente ai lavori pubblici ha commissionato un lavoro ad un professionista esterno per cercare di avere una piantina di quelli che sono i lavori. L'attività dovrebbe prevedere all'interno di questo centro polivalente la presenza delle associazioni che fanno cultura sul territorio, un piccolo laboratorio teatrale e delle altre attività. Anche da questo punto di vista siamo a buon punto e speriamo anche qui di poter dare nell'imminenza un annuncio importante alla città. con questo è veramente tutto, buon fine settimana. L'informazione del Tg di Tipo Siti vi dà appuntamento a lunedì.